allora buongiorno a tutti terza puntata del vlog oggi parliamo cominciamo dall'eveneman che ha avuto un grosso successo nella nostra giuria ha colpito molto soprattutto per le scene esplicite inerenti all'aborto diciamo il tema è questo e a me non ha convinto del tutto soprattutto per una questione di regia perché io sono già un schierato dal punto di vista delle semi soggettive che guarda caso vengono state sempre con i temi pesanti e quindi per me è un film dal punto di vista registico molto pigro che non ci fa empatizzare non mi ha fatto empatizzare con il personaggio e non lo so un po facile mostrare scene secondo me mostrare scene esplicite ad effetto però non costruire un adeguato background anche il rapporto con i genitori nullo peccato i personaggi non hanno questa grande profondità il tema trattato quando era illegale nel 1950 in francia non era poteva poteva essere molto molto più interessante sviluppare le personalità si si ci voleva poi abbiamo visto illusion per due grande sorpresa nonostante duri due ore e mezzo è un film in costume tratto da balzac molto appassionante con il sul tema della critica e quindi universale perché non parla soprattutto non parla solo della critica letteraria del tempo siamo nella nella restaurazione a parigi della restaurazione e dell'ostra potere quindi della nobiltà che torna ad averlo e c'è questa questa borghesia e soprattutto questa classe dei giornalisti che domina le opinioni del mondo quindi un regista un direttore di un teatro deve pagare dei giornalisti per le buone le funzioni un editore qualcuno che organizza concerti chiunque deve passare da loro quindi accumulano il potere della carta e belle che sono consapevoli di questo gioco alla fine molto subdolo perché poi c'è una scena rappresentativa che in cui elencano tutte e tutti i vizi della critica tutte le categorizzazioni che dico per esempio se un film è divertente come dicevano se un film è divertente è superficiale se un libro intelligente è pretenzioso e quindi il libro è sensibile e sentimentale grande film anche questo con Xavier Dolan che recita una parte pure interessante e poi abbiamo visto Mona Lisa and the Blood Moon molto carino semplice ma efficace praticamente abbiamo questa supereroina orientale non so di che nazione coreana coreana è vero l'attrice si si la conoscevo già e praticamente la troviamo in questo questo ambiente urbano con personaggi grotteschi c'è uno che adora la dubstep lo vediamo dentro casa con tutte le luci al neon con la musica a palla c'è in questo in questo film anche il poliziotto di Craig Robinson c'è è un film che vive soprattutto della dei personaggi della varietà di della simpatia anche di personaggi la colonna sonora bellissima musica da rave insomma un film che era successo tra gli adolescenti sicuramente sì 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 può essere un tmovie d'autore infatti sì che questa autrice aveva fatto film molto particolari horror thriller azione e molto carino poi abbiamo visto sundown di michelle franco che non è piaciuto alla maggioranza però a me è piaciuto molto l'idea di base geniale questo praticamente il protagonista vuole continuare la vacanza anche se c'è stato un lutto quindi abbandona trova una scusa continua la sua la sua vacanza in mexico ad acapulco sì 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 e praticamente poi ci saranno altre svolte di trama però è bello che questo personaggio abbia poche poche frasi poche battute e tutto descritto attraverso l'andatura il movimento del corpo la svogliatezza minimale ma assolutamente una svogliatezza poi è un'opera minimalista interiore e soprattutto per quanto riguarda gli interpreti e beh sì tim rotte diciamo il personaggio giusto è lui e questo film è lui veramente e poi infine abbiamo l'ultimo la caia di cui ci ha colpito molto la canzone perché l'hanno trasmessa almeno per una ventina di minuti a ripetizione sul red carpet praticamente abbiamo questo ragazzino che è molto influenzato dalla dalla sua famiglia in una scena viene anche da questo padre reputativo che non si capisce non si capirà mai se il suo vero padre viene ribadito da quest'uomo che la famiglia è la cosa è l'unica cosa che uno possiede l'unica cosa importante della vita e questo avrà delle conseguenze nefaste perché il bambino seguirà questo questa persona nel bene nel male diciamo e questo più che una storia vera e propria con dei risvolti per carità cioè possiamo parlare invece che di personaggi proprio di istanze psicologiche di obiettivi che seguono una determinata strada non di bisogno e di soddisfazioni dei bisogni che di personaggi con una complessità e e con delle sfumature precise e che possiamo sentire sì la cosa che non mi ha convinto sono state le troppe domande senza risposte un film molto ellittico diciamo che non non spiega molte cose ma anche qua più più per pigrizze secondo me che per messaggio preciso da lanciare perché in fondo l'unico tema che ho percepito almeno che mi è arrivato è stato quello della 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 morale no cioè che se segui la famiglia al di sopra della morale non sempre trovi la tua strada non sempre la tua strada infatti poi si pentirà anche il bambino avrà dei momenti di di crisi no di esistenziale e niente questo non ci ha convinto del tutto però si dice già che possa vincere qualcosa non lo so è il classico film che non mette d'accordo però vincerà qualcosa va bene allora a domani con la prossima col prossimo vlog domani avremo film da una parte diciamo quelli che ci hanno convinto meno dall'altra qui rido io che qui rido io che ci è piaciuto molto allora ci sentiamo domani buona buon proseguimento ciao ciao